Imponente sciopero del Servizio Sanitario Nazionale nel Regno Unito. Per quattro giorni si astengono dal lavoro i giovani medici su tutto il territorio nazionale e il governo ha esortato i cittadini ad evitare comportamenti a rischio per limitare gli accessi agli ospedali. La British Medical Association sottolinea come lo stipendio in termini reali per i giovani medici sia diminuito del 26% negli ultimi 15 anni. Le associazioni di categoria chiedono per questo un aumento del 35%.